E' bastata una sua telefonata appena rientrato a casa per risentire l'ardore del grande generale pronto a ritornare in sella, a scendere nell'arena, grazie a tutti quelli che in questi giorni hanno pregato per Pietro Francesco. Continuiamo a farlo. Don Marco Pozza, il sacerdote padovano, cappellano del carcere Due Palazzi, molto amico e vicino a Papa Francesco, annuncia sui social di aver sentito al telefono il Santo Padre subito dopo le sue dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato. Il Papa ha annunciato che celebrerà la messa della Domenica delle Palme. Nei giorni scorsi Don Marco, sempre nella sua pagina sociala, aveva invitato tutti a pregare per il Pontefice. C'è un popolo immenso che, seguendo lui, avverte il profumo di Dio. Anche a questo forse servono i momenti di fatica a far brillare l'affetto che il male certe volte tiene nascosto, conclude Don Marco.